Io lancerò la moneta. Se uscirà rosso sarà Davide a suggerirmi, se uscirà blu sarà Fredda a suggerirmi la risposta. Volevo chiederti, in ambito anniversario di una coppia, quale è il migliore regalo da fare alla tua amata se già hai fatto tantissimi, tantissimi regali? Ah! Conto le devi presentare! Conto! Non ha tutti i torti. Secondo me la vita è fatta di regali, ironi, bisogna sempre pensare al prossimo, anche un gesto d'amore, un atto d'amore più che sufficiente. Sì, come dire, le hai fatto talmente tanti regali materiali che se gli dai per una volta un po' di m***a secondo me. Come disse Don Quasimodo, la fa muc.